Stava per consumarsi il terzo raid in meno di sette giorni. Se sia o meno lui lo stesso autore dei precedenti furti, lo diranno le indagini, ma il colpo lo hanno messo a segno stavolta i carabinieri. Arrestato alle quattro della scorsa notte in flagranza di reato un cinquantenne di volla, provincia di Napoli, aveva appena trafugato dal Camposanto portafiori in rame e bronzo centinaia di pezzi che avrebbe caricato a bordo del suo monovolume e che gli avrebbero fruttato sul mercato nero qualcosa come 27.000 euro. I furti avevano destato indignazione scalpore nella popolazione, sdegno e rabbia per la facilità con cui era stato messo a soccuadro e profanato il cimitero. La perlustrazione programmata dai militari dell'arma ha dato i suoi frutti. L'uomo è stato notato mentre scavalcava un muro di recinzione e i militari lo hanno atteso all'uscita. Con sé aveva 100 bicchieri in rame e 400 portafiori. Con l'ausilio di una pattuglia della sezione radiomobile intervenuta sul posto, l'uomo è stato condotto in caserma dove ha ammesso le proprie responsabilità. Verrà processato per direttissima. Le indagini dovranno stabilire se vi fossero altri complici e se sia stato lui l'autore di altri saccheggi. Il plauso dei cittadini alla brillante operazione. L'invito a munire il cimitero di videosorveglianza e nuove recinzioni perché in futuro altri malintenzionati potrebbero prendere di mira il luogo di culto.